È possibile battere un record grazie all'intervento dell'universo? È ciò che stava per succedere a Dota a T-Bag durante una speedrun di Super Mario 64. Il personaggio di Mario si è ritrovato improvvisamente a volare in una parte più alta del livello e questo ha permesso al giocatore di guadagnare qualche secondo. Alcuni test hanno poi portato alla conclusione che il salto fosse dovuto al cambio di un singolo beat nel valore dell'altezza di Mario. La teoria più accreditata vuole che il beat sia cambiato per via di un raggio cosmico che si è imbattuto nella console del giocatore. Questi eventi sono estremamente rari, ma fisicamente possibili. Perciò la prossima volta che perdete un videogioco potete sempre dare la colpa ai raggi cosmici. Detto questo, ci vediamo alla prossima!